Gabellini Volkswagen presenta ID.7 Creata per nuovi orizzonti ID.7 vuole ridefinire le opportunità di utilizzo di una vettura elettrica per le lunghe percorrenze grazie ad un'elevata autonomia Inoltre, potrai godere della ricarica rapida, di ampio spazio interno e di una guida intuitiva con alti livelli qualitativi Il design aerodinamico di ID.7 punta su linee nette, fluide e decise Grazie a controlli innovativi ID.7 si trasforma in un vero e proprio dispositivo smart Il display di serie da 15 pollici è il centro di comando della vettura e consente di gestire comodamente le funzionalità dell'auto ID.7 Creata per nuovi orizzonti Vi aspecchiamo il salone per scoprirla da vicino